buongiorno vi espongo la presentazione della mia attività il titolo che mi è piaciuto dare a questa presentazione è l'euro nella matematica in classe prima le monete e il loro valore allora intanto vi presento la mia classe i miei bambini devo dire che è stata un'esperienza meravigliosa questi bambini avevano la voglia di imparare di fare di seguire di collaborare veramente veramente tanta voglia di fare si sono comportati bene anche tra di loro hanno fatto gruppo si sono inseriti bene senza eccezioni direi un'ottima classe e quando ho impostato questa attività naturalmente mi sono posta degli obiettivi obiettivi acquisiti dalla dalla progettazione e obiettivi che sono che fanno parte di tutti noi insomma nel senso che utilizzare i centesimi di euro è un qualche cosa che unisce la conoscenza e il sapere stare al mondo e quindi gli obiettivi principale è quello di acquisire padronanza del significato di valore del numero se il valore card il numero cardinale è già stato acquisito già della nella prima parte dell'anno adesso invece dovevo puntare come obiettivo a far capire al bambino che un oggetto può avere un valore convenzionale diverso da quello che è il suo valore unitario in quanto a oggetto in quanto tale un altro obiettivo era far capire nella pratica nella pratica dell'euro quello che già avevamo visto nei raggruppamenti e cioè la scrittura decimale posizionale utilizzando attraverso insomma la scala dei valori monetari quindi l'esempio che è servito di più è stato quello di impilare le dieci monetine da un centesimo e mettere a fianco la monetina da dieci centesimi che sostituiva queste e quindi creava l'uno zero del valore dieci visto appunto nei raggruppamenti i raggruppamenti sono stati l'oggetto della della sono stati i raggruppamenti era il capire raggruppamenti era l'obiettivo di una mia attività precedente che ho fatto con utilizzando i regoli il terzo obiettivo principale è quello di scoprire il significato delle operazioni aritmetiche basilari come la scomposizione composizione additiva il completamento quanto resta il confronto e soprattutto per questo soprattutto per quanto riguarda il resto è stata un'operazione è stato arrivare al resto utilizzando le monetine in modo naturale nel senso che il concetto di resto è stato acquisito dai bambini come naturale conseguenza della compravendita. Un ultimo obiettivo è quello di insegnare ai bambini di utilizzare strategie mentali per risolvere i problemi che si affrontano insomma ecco in questa attività in particolare le strategie come vedremo sono state utilizzate soprattutto nella scomposizione additiva e nel resto. Il percorso didattico beh in realtà niente di particolare mi sono dotata di un numero congruo di monetine affinché ogni bambino avesse 10 pezzi per ogni tipologia di moneta quindi 10 da 1 da 2 da 5 e da 10 mi sono fermata ai 10 anche se comunque abbiamo utilizzato lo stesso anche se non erano in dotazione a ciascun bambino monete da 20 e da 50 centesimi per casi particolari per esempi particolari per problemi particolari quindi il primo compito è stato quello di riempire ciascuno venendo alla cattedra di riempire il proprio borsellino in realtà era una bustina di plastica con la zip ma per noi era il borsellino così come nel gioco del riempimento del borsellino la cattedra era la cassaforte adesso a turno vi chiamerò e voi prenderete 10 pezzi 10 monetine per tipo e li metterete dentro il nostro salvadenaio ok bene dai prendi 10 pezzi da un centesimo come si può osservare dal video l'attenzione la voglia di fare la voglia di la curiosità di provare di toccare con mano cose che non sono rivolte ai bambini le monetine è stata una cosa che è stata apprezzata è stata apprezzata e non li ha mai lasciati annoiare ecco dopo la prima fase di di conoscenza di questa nuova cosa che in realtà poi era già conosciuta perché la casa naturalmente hanno avuto modo di vedere la mamma andare a fare la spesa di toccare con mano però in questo caso abbiamo un utilizzo veramente individuale di questo di questo strumento di vita quotidiana quindi la prima la prima fase vera e propria è adesso venuta con la manipolazione ho chiesto ai bambini di realizzare un disegno utilizzando le monete come come tratto grafico quindi invece di usare la matita usavano le monete per creare questo disegno magari magari arricchendolo come se fosse un mosaico quindi con delle soluzioni riempitive in modo tale che alla fine come nel caso di naid che è molto portata per il disegno la rappresentazione grafica è stata veramente veramente interessante però tutti hanno hanno a loro a loro modo hanno hanno utilizzato le monete ognuno con la loro fantasia per per riportare un disegno ma non ma non sempre solo un disegno come vediamo questa come si chiama erisa invece ha scritto un numero però inizialmente l'aveva fatto mescolando le monete in un secondo momento ha diviso le monete per colore e per dimensione la seconda fase della manipolazione ha riguardato l'osservazione e la trascrizione osservazione e trascrizione delle caratteristiche principali delle monete quindi il colore la dimensione ma soprattutto il numero riportato nella faccia della moneta che ci servirà poi appunto per l'individuazione del suo valore hanno 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 quindi disegnato sul quaderno utilizzando la moneta come come dima ecco e la terza fase quindi il terzo il terzo passaggio di questa attività ha riguardato le conte le conte come nuovo tipo di numerazione non più in funzione del numero dei pezzi ma in funzione del valore impresso sulla faccia della monetina quindi conte dell'1 con molettine dell'1 a conte del 2 4 6 8 10 con molettine del 2 e via dicendo conto del 5 e del 10 c'è stata una leggera difficoltà iniziale nell'acquisire il significato di valore ma è stato superato senza grosse difficoltà come si può vincere dal video è il l'obiettivo di saper utilizzare le monete per realizzare delle conte è stato ampiamente raggiunto ecco quindi come come anticipavo il la difficoltà del significato valore quindi passare da una successione caldi cardinale e a un nuovo tipo di conta ecco questo doppio binario ha creato un attimo di incertezza in realtà è durato poco perché poi come abbiamo visto nel video precedente il fatto di avere delle monete che indicassero loro quale fosse la progressione da utilizzare ha risolto il problema ecco quindi direi che oltre a familiarizzare con questo strumento che servirà nella pratica anche a breve la situazione inversa cioè questo strumento per a ritroso essere utilizzato come strumento didattico per capire il significato del valore ecco per diciamo così per passare alla fase successiva subito dopo le conte abbiamo affrontato il gioco del cambio e la compravendita il gioco del cambio e la compravendita fatto a piccolo gruppo da due o tre bambini consisteva beh il gioco della compravendita naturalmente è venuto dopo e non dice la parola il gioco del cambio invece consisteva nel a coppie un bambino offriva al compagno una monettina e doveva ricevere in cambio monettine diverse per raggiungere lo stesso valore insomma ecco quindi si scambiavano il ruolo e fino a alla risoluzione del problema diciamo questo che la cosa fondamentale del gioco del cambio che in realtà è banale come concetto ma è fondamentale penso sia stato fondamentale perché soprattutto per i bambini che hanno acquisito con più difficoltà quello che dicevamo prima cioè il valore come numerazione ecco questo tutoring peer to peer cioè questo 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 insegnamento da parte del bambino che era un po più avanti nei confronti del bambino un po meno preparato un po meno predisposto a questa cosa è stata risolta dal gioco del cambio ma in maniera molto molto naturale e molto rapida così come la compravendita compravendita dove un bambino aveva faceva il venditore aveva le caramelle e l'altro bambino naturalmente in controposizione aveva doveva effettuare l'acquisto e quindi doveva fornire il l'insieme corretto di molettine per raggiungere il valore del prodotto da acquistare vediamo adesso un breve video nel quale i bambini fanno esempi di scomposizione addittiva ecco come si vede naive mi ha proposto due sistemi diversi due modi diversi due gruppi di monetine delle caramelle diverse per poter acquistare le caramelle da 10 centesimi stessa cosa ha fatto che fanno 7 più 2 fanno 9 più 1 tanti benissimo ecco in questo caso anche il bambino anche Sebastiano che aveva una difficoltà iniziale un pochino maggiore rispetto agli altri bambini rispetto ad alcuni altri bambini perché alla fine comunque è riuscito a capire il metodo del sistema utilizzando le dita a raggiungere l'importo corretto in modi diversi e per concludere per concludere volevo elencare velocissimamente quelle che sono le principali indicazioni nazionali per il curriculum che ho preso a riferimento e nei quali in queste indicazioni io credo fermamente la prima è che abbinando l'apprendimento e il sapere stare al mondo si raggiunge un obiettivo di educazione completa perché educare senza portare entrambi i valori di apprendimento ma anche di sapere stare al mondo non si raggiunge una vera educazione soprattutto nella scuola primaria così come bisogna cercare di sviluppare la capacità del pensare e del fare uno escludendo l'altro anche in questo caso non è indice di maturazione completa insomma ecco non c'è il solo il solo argomento teorico ma anche il vedere questa cosa messa in pratica c'è poi abbiamo poi il laboratorio e il gioco che sono entrambi soprattutto in prima elementare elementi fondamentali dove l'alunno è attivo in matematica formula delle ipotesi anche se inconsciamente anche se senza seguire progetti prestabiliti ma comunque sia formula ipotesi progetta sperimenta discute argomenta le proprie scelte in questo caso appunto vorrei sottolineare quanto sia importante il discutere il verbalizzare l'esplicitare alla maestra ma anche ai propri compagni il proprio ragionamento la strategia utilizzata senza che intervenga l'insegnante senza che intervenga l'insegnante il gioco anche come imparare a stare al mondo quindi rispettando le regole ma anche gioco come palestra nell'elaborazione di strategie adatti anche a contesti diversi cioè la strategia utilizzata nel gioco in realtà è utilizzare la mente per risolvere un problema quindi quanto imparato in un gioco sarà utilizzato anche per cose probabilmente più importanti del gioco stesso comunque la matematica per concludere offre quegli strumenti descrittivi utilizzati che si possono utilizzare per affrontare i problemi della vita quotidiana e che serve oltretutto serve anche per comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri perché anche per un uso corretto della descrizione di quanto accade è importante per esprimere il proprio concetto ma saperlo fare è importante anche per capire i concetti altrui che vengono detti dagli altri quindi per ultimo che si lega comunque a quello appena detto è la capacità di sapere esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti che si sono seguiti e con questa ultima slide io vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza e spero di avervi accontentato grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti